buongiorno buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè sta pieno e l'utilità della mano di amazon vai questo ragazzi è fenomenale sta pieno sempre sempre a breve potrete anche voi acquistare il fundraising sta pieno bisogna attendere un pochino perché li sto testando ragazzi cioè è assurdo in mezzo alla natura scotta ritrovo la ciabatta dove l'ho messa ma guarda chi l'ha presa sannaggia ma io veramente ma ti diverti con poco eh cioè io può io veramente può pesa ardua ce la farò gonfiare il coccodrillo affiato si svengo venite a riacchiappare qua eh svenimento live eccolo quanto è bello c'è anche l'amico adesso mi tocca prendere il respiratore perché se no ma soltanto il grusso veramente dalla svezia è arrivato guarda che ti ho mandato guarda 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 nonno faustino scrocchella colpito ancora originale ma che è come che aprono no te lo manda a pino pino ringrazia a pino guarda un po ringrazia a pino grazie a pino guarda che è stato svegliato guarda che è stato venito guarda che camion guarda bene eh è tutto non c'è capisce niente è guidata la respina fino a ieri è guidato che è il bilico è il bilico non c'è guidare con il bilico con il bilico se ci salisca anche adesso il video guarda quanto è bellino apralo beneficial non ce la fai anche questo ma che rompe tu il rischio si ghi affregano capito si ma l'unico rischio si fai tu no 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 qui della troncoli ce n'ha uno no ce 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 che questo dopo gli sparisce la pia con me la pia con me vieni a prendere la roba eh fermatevi fermatevi il camioncino fermati attenzione in questi giorni si sente parlare moltissimo di cripto chiaramente bisogna fidarsi a gente seria bene se fate swipe loro sono veramente in gamba ormai è un po' che ve lo consiglio quindi swipe guarda sei tutto emozionato sei emozionato si si invece ho messo a piazza gli manchi? la mia stroncio a ripetizione ma piano stroncio 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 quanto molto l'ho ma dove è più avanti ma lo cazzo me volvi di sotto più avanti mi fa scendere scendere questa scenda fermatevi fermatevi che c'è la sgarbata lo cazzo lì ma perchè? ma tu sei un affamorito che stai guardando no? stroncio 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 ma dai dai stiamo in stagionare sciacchia di coiuga perdita di c***o corta luce buongiorno 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 comunque sono un campione ballerino la canzone in anteprima basta aspettare basta basta se la faccio sentire la canzone in anteprima? come no? dai la faccio sentire dai siamo i coccodrilli ecco vai buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè sta pieno eh 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 non ve la faccio sentire ma basta fare swipe up per presalvarla ragazzi è semplice basta fare swipe up loggarvi su spotify il vostro spotify il vostro apple music e la canzone sta pieno andrà diretta nella vostra libreria quindi fate swipe vediamo quanto siete cari questi occhiali con sto riflesso mi fregano mi fregano devo essere sincero è arrivato anche qualche altro pezzo dove faccio vedere l'unboxing però bene dai andi Amazon che fa palestra per te fatica per me vai mamma mia che acquisto su Amazon dai se c'è una telecamera c'è una telecamera c'è una telecamera c'è una telecamera si qua ha tutto un altro sapore fuori i coccodrilli fuori i cocchi salvato il coccodrillo ragazzi l'ho visto in difficoltà ma non mi so scottato no no ma che questo addirittura ha tre colori guardate che lavoro eh la casa sull'albero questo posto è pazzesco brilli da da poppi da poppi finita a salutarmi si si mi raccomando venerdì che esce venerdì esce sta pieno ah ok vedi che sono informati e preparati volete salutare qualcuno a casa guardate chi è arrivato il padrone di casa salapo mio grandissimo amico scusami tirami su alla birra ma come tirami su alla birra tutta il corpo tanto casa non è lontana sta lì sta lì grande lapo adesso prima che mi sente il telefono ci vuole un pochino è contento oh no com'è bene davvero che stai fa eh che stai fa come la televisione che fa l'hai scaldati Flori come l'hai scaldato 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 sto cazzo vaffanculo no mi mancava un po' il vaffanculo eh ah ah ti mancava eh sì ma tu che sto c'è da ieri sera mi telefono a te tu hai chiamato un bel risposto eh t'ho richiamato adesso oh ma c'ho avuto da fa' ma se può sapere o se a Poppi ora ti ci porta anche da te no a Poppi Poppi eh che Poppi 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 oh dici che andrà sul Val D'Arno sì sul Val D'Arno sto sopra Rezzo no ma c'è la piscina c'è la piscina sì ma sto c'è la piscina tu no che c'è la piscina io non è me oh eh il muo te ci porta anche da te di qui eh sì ma io ci vengo non stai tranquillo come no in palestra fa la ginnastica e poi fa la dolce e poi la pippa no anche una pippa ti fai domani sì ah che bello quindi ti rilassi eh oh no eh fa fa ah altra cazzo manchi un pochino eh mi manchi un pochino no no io sto bene ascolta venerdì esce la canzone te voglio bello carico eh ebbè ma venerdì lo senti venerdì torno esce la canzone e te fa un bel pennello sì il pennello è il culo no dai ci sentimo domani va bene ciao 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 socio dove andai io ciao dove andai oh grazie grazie a tutti